ragazzi mira gli angoli cosa dice e cosa non dice ma Ori vai smettila in mezzo non si tiri inutili ma è un vizio ma ora tirano sempre in porta eeeh scassanza la muta Mari andate un po' più su cercate di arrivare davanti a una porta ora devi fare un po' gli aspetti brava Giorgio Francesco cercate di arrivare un po' in porta non tirate i segni non ho mai visto Marzia ha preso un po' di giro e' un caffeta con se stessa bravo era proprio quello che vi stavo dicendo fra così arrivate in porta Carlotta Valentina Rossella e Simona con me abbiamo vinto brava brava tutto è qua scaldata ascolta add a ma va bene va bene ecco due 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 cuore giù 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.